Dicono no alla localizzazione di una nuova farmacia in un territorio diverso da loro, gli abitanti di Tempera, che attraverso una lettera al sindaco Pierluigi Biondi, sottoscritta dagli usi civici, dalla parrocchia e da altre associazioni locali, chiedono al primo cittadino di mantenere le decisioni della giunta comunale di allora, era il 2012, che stabiliva l'apertura di quattro nuovi presidi, di cui il 22 proprio a Tempera. Un bando, un lungo iter burocratico che si è concluso dopo nove anni e l'amara sorpresa di un nuovo luogo indicato, Paganica anziché Tempera per l'ubicazione della nuova farmacia. Abbiamo scoperto purtroppo, forse in ritardo come al solito, ma credo ci siano i tempi per poter rimediare, alla decisione di allocare praticamente questa sede che risulta agli atti come farmacia 22 di Tempera e la troviamo invece posizionata nel centro di Paganica, dove oltretutto già ci sono una farmacia e una parafarmacia. Quello che poi ci preoccupa è che siccome tutto l'iter è venuto nell'arco di nove anni, quindi una procedura non certo semplice, il fatto di giocarci questa possibilità significa precludere pure il nostro centro verso una visione futuristica. Il nostro territorio che sta risorgendo dopo il terremoto, avere una farmacia, significa aumentare di molto la valorizzazione del borgo e oltretutto, come ripeto, la nostra sede viene collocata a Paganica, verso cui non nutriamo nessun risentimento, siamo tutti amici, però è proprio una scelta che penalizza fortemente la nostra collettività. Le associazioni cittadini rivendicano invece questo servizio e dicono no allo scippo, invitano anche il sindaco Biondi sul territorio perché i problemi della frazione sono tanti e diversi. Noi infatti ci siamo riuniti con tutte le associazioni che rappresentano la collettività di Tempera per cercare di risolvere con questa lettera aperta al sindaco che abbiamo invitato qui presso la nostra sede e per trattare anche del contempo altre problematiche che poi andremo a analizzare magari in una seconda fase.